Dopo la scoperta dello studente del liceo scientifico Leonardo Di Agrigento positivo al Covid, nel pomeriggio di ieri sono stati effettuati i tamponi rapidi dall'ASP Di Agrigento a tutti i compagni di classe del giovane di quarto anno risultato contagiato. I test hanno per fortuna dato esito negativo. L'intera classe era stata comunque posta in isolamento fiduciario. Ascoltiamo in proposito l'intervento della dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo Di Agrigento, Patrizia Pilato. Nel raccogliere ancora una volta le preoccupazioni scaturenti dal veloce quanto atteso, direi, evolversi di un processo epidemiologico che interessa l'intera nostra comunità territoriale e trova indubbiamente nelle istituzioni scolastiche le prime frontiere di potenziale contagio, vista l'età media degli studenti che le popolano. Vorrei ribadire anzitutto che il nostro istituto, sin dall'avvio del nuovo anno scolastico, si è strettamente attenuto in modo rigoroso e peraltro palese a tutti i componenti della comunità scolastica, ai protocolli di sicurezza ministeriali, nonché alle procedure di gestione dei casi Covid o presunti tali, così come sono stati condivisi col Dipartimento di Prevenzione dell'ASP Di Agrigento. Tuttavia sento di dover rinnovare in questa sede l'appello alla responsabilità individuale e collettiva dell'intera comunità scolastica nel gestire la quotidianità all'esterno della scuola, in modo tale da non ledere il diritto alla salute di tutti e di ciascuno, trattandosi sicuramente di un diritto soggettivo perfetto in capo ad ogni cittadino, che impone un limite a quelle attività pubbliche o private che siano che ne pongono in pericolo l'esistenza e la solidità. Vorrei ricordare a tutti che l'interesse della collettività di fronte a situazioni di grave emergenza sanitaria e alla minaccia per la salute di tutti e di ciascuno assorge in questo caso un valore superiore, che è capace di giustificare non solo severe restrizioni alla libertà della persona e agli atti della sua vita quotidiana, ma anche di imporre rigorosi limiti ad altri diritti costituzionalmente garantiti che sono appunto di tutti e di ciascuno. Ribadisco comunque che la situazione è attentamente monitorata secondo i protocolli vigenti, che ci hanno peraltro restituito dei feedback positivi sullo stato di salute dei compagni dell'alunno individuato come alunno positivo, nel senso che i tamponi effettuati dall'ASP sono risultati tutti negativi.